Continuano le segnalazioni di acqua marrone al Lido di Venezia, qui siamo negli stabilimenti lungomare e come segnalato nei giorni scorsi anche oggi il mare è completamente marrone. Nonostante il grande caldo, nessuno, come vedete, in acqua per rinfrescarsi. La proliferazione di quest'alga tropicale in questi giorni, segnalata dai bagnanti e anche alla Capitaneria di Porto e all'Arbab, è dovuta alle alte temperature del mare. Gli esperti dicono che non si tratta di un'alga tossica e nuciva per la salute. Fatto sta che i bagnanti non si fidano e come vedete nessuno è in acqua.